Si profila un processo d'appello bis per un folto gruppo di imputati coinvolti nell'inchiesta denominata Johnny, grazie alla quale nel 2017 la DIA di Catanzaro ha fatto luce sulla pesante cappa della Cosca Arena su gran parte delle attività economiche di Isola Capo Rizzuto. A disporlo la Cassazione, accogliendo gran parte dei ricorsi che erano stati presentati dai 56 imputati, condannati in primo e in secondo grado. Gli ermellini hanno pronunciato l'assoluzione per 4 imputati, dichiarato inammissibili ricorsi per altri 4 e rigettati quelli di altre 9 persone. Hanno poi parzialmente accolto i ricorsi di 39 imputati, annullando le relative sentenze di condanna di secondo grado, per alcuni capi senza rinvio e per altri con rinvio ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, che dovrà dunque celebrare un altro processo. Di conseguenza otterrà certamente uno sconto di pena Leonardo Sacco, ex governatore della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, che all'epoca gestiva il centro per migranti e che avrebbe fatto affari con i clan, dividendo con loro i proventi destinati all'accoglienza. A Sacco, condannato in primo grado a 17 anni e 4 mesi di reclusione, ma poi aumentati a 20 anni nel corso d'appello, i giudici della Cassazione hanno annullato senza rinvio una serie di capi di imputazione per malversazione, ovvero l'utilizzo fraudolento dei fondi stanziati per l'accoglienza dei migranti. Mentre hanno annullato con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello, l'accusa di essere stato l'organizzatore e il promotore dell'associazione mafiosa sgominata con l'inchiesta Johnny.